Ciao c'è spuglio infame Ragazzi abbiamo due jump Cacchio E' un robot E' un robot Cosa era un fottuto robot Sono io ragazzi Oddio meno male Vai 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 Oddio l'ho preso Cosa 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 E' ciao a tutti Pagliacci e pagliacce Qua è Begozzo E ben ritrovati a Bamba Sul mio canale Su questo nuovo video di Fortnite Allora attenzione perché Quest'oggi ho intenzione Di fare una partita E cercare di fare letteralmente Il mazzo Insomma avete capito A tutta la lobby intera Ovviamente ragazzi Sempre nei limiti Perché Non so sinceramente Come si facciano a fare 3 miliardi di kill Scendendo a pinnacoli E non essere ammazzati Questo sinceramente non lo so Comunque Mi impegnerò al massimo Nelle mie possibilità Di fare più kill possibili Essendo comunque Nella media Quindi non mi reputo Né bravissimo Né scarso Cercherò di fare più kill possibili Di vincere ovviamente Perché Questa è una sfida personale Per cui Io vi invito a mettere Tantissimi Mi piace Perché Quello che avete visto A inizio intro Prima della intro Ragazzi E niente in confronto A quello che vedremo Tra poco Per cui Siccome è un video Molto molto bello Io vi invito a mettere Un bel mi piace Commentone Ditemi cosa ne pensate Perché Ditemi cosa ne pensate Guardatelo fino alla fine Perché Dovrete scoprire Perché Quello sclero Secondo me lo dovete Veramente scoprire Per cui Mi raccomando Iscrivetevi anche al canale Per non perdere altri video Di Fortnite Perché a breve esce La nuova season E la compreremo Tutta Sì avete capito bene La compreremo tutta Quindi rimanete attivi Sul canale Poi stick ce li abbiamo Cuffie ce li abbiamo Ragazzi Direi che possiamo iniziare E adesso È l'ora del devasto Ok ragazzi Allora Siamo in autobus Ora scendiamo Sicuramente Penso che andremo A corsa commercio Come al solito Allora Non sono ancora Bene precisamente Com'è che saranno le cose Perché comunque La dovevo già fare da un po' La dovevo già portare da un po' Sul canale Però Questo video Diciamo Non so se lo caricherò Oggi o domani Però Lo caricherò un giorno Sicuramente Comunque Giogliamoci questa partita E vediamo Sicuramente lo caricherò Prima che finisce La season 4 Che inizi la 5 Ok Allora Vediamoci Vediamo subito Nella casa di Rocca Non ci credo Comunque ragazzi Se dovessi perdere Questa Partita Ve lo giuro Ve lo giuro Su cosa voglio Cioè Se mi incazzo seriamente Vi giuro che metto Proprio rispetto alla costruzione Perché Non si può più Andare avanti così Cioè Prima ho fatto una partita Prima di fare questa No Ed è stato veramente Da impazzire Seriamente Seriamente Intanto beviamoci Gli scudi Vabbè ragazzi Ora ci fugliamo un po' Sento già del casino fuori Oh c4 Adesso qualcuno Salta in aria Apri sta porta Chi c'è Chi c'è Chi c'è Chi c'è Sento passi Ma eccolo è lì dentro Ma io sai che ti faccio Ti butto tutto il 50 A dose Ciao bello Ciao Ciao Guarda Uno 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 Se sei guardato questo video Sei stato fottuto E vabbè qui ovviamente Non è stato luttato Ragazzi Vediamo un po' Se proviamo qualcosa Costruisci Vedete Sono lento a costruire Quindi Stavo seriamente Pensavo di mettere Professionista della costruzione Perché comunque Disusare entrambi Però Con professionista della costruzione Ragazzi Costruisco veramente Da dio Infatti ve lo consiglio Se state guardando questo video Togliete il professionista Del combattimento E mettete quello della costruzione Intanto lì Vedo che continua A esserci gente E che bello Far saltare le case Con le C4 Dove è dove dove Oh ciao bello Oh Oh Questa cosa Sentito Sto c'è spuglio infame Oh questo c'è un bel Due pompa Bene E' ora di fare Il double pump Ragazzi In ora sembra Che ragazzi Ci siano soltanto Scarpari Non ho trovato Gente eccessivamente Forte Però Mai direi mai Allora Sento una cassa Ecco Qui c'è una cassa La solita cassa Nel camion Non te lo dè mai Oh oh Pompa nuovo Signori Che poi perché Continua a chiamare Pompa nuova E vabbè Così ho trovato L'assalto Meglio l'assalto Meglio l'assalto Vabbè dai Allora a suo punto Mi faccio un po' di materiali Se sento qualcuno Lo ammazziamo Mi sembra No ragazzi Ho fatto una cazzata Sto per fare spodere Tutto quanto La cassa si è salvata La cassa si è salvata Vabbè Vabbè Vendiamo munizioni Ragazzi Abbiamo due jump Olè Oh 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 Vedete che sto messo da dio Ragazzi Abbiamo a caso Lo scar L'RPG Lanciarocco Lanciarocchi Lanciarocco Per chi non lo sapesse Ragazzi sarebbe Oh mio dio Questo gioco Mi vuole bene Due pompa nuovi Viola Per chi non lo sapeva Ragazzi Lo chiamo lanciarocco Sarebbe l'RPG Lanciarocchi Sarebbe Lanciagranate Che sarebbe Lanciacazzi Perché lo usano tutti Per spammare Quindi Tenetevi la mente Nella nostra Nel vostro Nel vostro Anzi Nel nostro Nuovo vocabolario Oh oh Guarda sei fame Ecco Vedi qua Vedi che succede quando mi distrago E faccio costruzioni a caso Dietro 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 Che fame Spendi Guarda Ciao Ciao Bello Ciao Ragazzi Siamo in 3 kill Peccato Perché Mi aspettavo sinceramente Che a Corsa Commerce C'è andesero più perso Spero almeno di arrivare a Non so 12 13 kill Spero di farci Vabbè Ora comunque Corriamo subito al centro Quindi Ricarichiamo tutto Andiamo verso Magazzino Tantara Tantara E' Siamo arrivati a Magazzino Sento spari Magazzino E' una cancro di zona Perché ci muoio sempre Vabbè Con la pietra del cristallo di luna ragazzi Dovremmo evitare tutto ciò Vai o me Ah no ma sta qua dentro Cazzo ragazzi ce l'ho qua dentro Dove 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 Lo sento qui dentro Lo sento nel tunnel Aspettate facciamo una cosa Così lo faccio cagare sotto Dai esce Ah eccolo lo vedi E' lì e' lì E' lì e' lì Era facile proprio Era pure senza scudo Dov'è l'altro? Oddio lo sento sopra No aspetta Forse è qua E' qua gira gira Dove cacchio è oh No ragazzi Non mi faccio ammazzare da un camper Ve lo dico Ah eccolo l'ho visto L'ho visto e' lì E' lì e' lì lo stronzio E' lì vai 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 No 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 mi freghi Mi freghi Doppio pom 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 Oh ma è fermo Ma è un bot E' un robot E' un robot Cosa? Era un fottuto robot Era un fottuto robot Oh guarda che cazzo C'aveva questo Lo scarre il termico Ma era un robot ragazzi Si è stato fermo Cioè non capisco com'è sinceramente questa cosa qua Ma molti no? Stanno fermi Ti guardano E si fanno ammazzare Ma c'è lama Oh oh Lama ragazzi Questa è la mia partita E' la mia partita Spascia Spascia Rompi Rompi Che cazzo Che cazzo Tre jump Cosa? Che cazzo me ne devo fare? Ah vabbè una la uso adesso dai Infatti Guardate dove stiamo Questa zona ragazzi Dove siamo per atterrare E' una zona cancro Sapete perché? Perché è troppo aperta E non riesco ne a vedere Ne a capire se c'è qualcuno Infatti Meno male che ho il termico Che riesco a capire A vedere qualcuno No leva questa Metti questa Ok Ok Di materiali si sono messo abbastanza bene Anche perché ho trovato il lama Per cui Oh oh Ma che cazzo è un nome Sono io ragazzi Oddio Meno male che L'ho preso col pompa Guarda sto infame che aveva C'aveva l'RPG Che c***o ragazzi Sarei morto Un altro colpo Sarei morto Perché arrivano proprio adesso Mentre io mi sto Mi sto per curare No ma mi fanno imputtanare le costruzioni Lo sapevo Deve finire sempre così Che mi imputtano sempre No perché sto mettendo una jump Oddio Meno robot è che è questo Prendilo Oddio ragazzi Oddio Ma questa è la partita delle jump Tipo ne ho già trovate quattro Che diavolo è Non sto capendo una mazza Se mi date tre secondi Per riprendere fiato Io farei muri Mi medicherei Prenderei scudi Prenderei tutto Metti la jump Vai Mio Ok Vediamo un po' se vediamo qualcuno Se riesco a entrare a vedere qualcuno Vedo scale Oh là si stanno fai tambi Non lo sa eh Vai 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 Bof Vai adesso al momento dipende di sul stereo Vai vai su un jump Vai su un jump No forse è meglio di no Si Vai 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 Ok Fatemi concentrare un momento ragazzi Fatemi concentrare un momento Dove 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 Eccolo eccolo Vai 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 Oh cazzo Oh cazzo No 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 Ma perché tutti con me Perché tutti con me Ragazzi qua ci lascio la pelle Qua ci lascio la pelle Qua ci lascio seriamente la pelle Allora aspettate Vediamo che posso fare Sto ragionando Oddio No 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 Mi distruggete tutto Non sto capendo una mazza Non sto capendo una mazza Ce l'ho sopra sotto Siamo in 3 4 Oh mio dio Chi è che mi sta sparando da sotto C'è qualcuno C'è qualcuno Ho sotto qualcuno Vai Oh No No Si No Adonno Ho sbagliato tasto Però l'ho preso Non volevo fare con l'RPG Però insomma Ci siamo intesi comunque E' giampato uno Oh ecco c'è un altro Sono in due Vai 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 Oddio l'ho preso Vai Oh 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 Ragazzi E siamo a 10 kill Sto arando tutti quelli Che mi incontro davanti Tutti quelli che trovo davanti Sto arando C'è un medikit Meno male Forse dovrei coprire in alto Vabbè dai Chi cazzo deve Non ci credo Non ci credo No No Non adesso Non adesso Vai sto costruisci 16 di vita Cos'è sta cosa Ragazzi questo è un nabo Mi sta pure costruendo Mi sta pure distruggendo No 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 Allora Facciamo così così Evitiamo Spiacevoli di scudi Ok perfetto Vai sparati un po' sti scudi Spariamoci sti scudi Vai 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 Prima che jumpa Prima che jumpa Prima che jumpa Doppia pompa Vieni qua vieni Vieni che ti spacco Vieni Vieni Cosa 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 Quanto scudo aveva Cosa 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 Ma Non abbiamo messo Non abbiamo messo Quello Cioè Non abbiamo messo Volevo mettere una costruzione migliore Ma non ce l'ho fatta E comunque arriva lui con 8 kill E mi ammazza Sincero sicuramente era bravo Ma è rimasto con 50 di vita L'abbiamo visto tutti E il double pump Non ha fatto il suo dovere Da quando hanno depotenziato i pump Ragazzi È diventato una merda sto gioco Dopo aver fatto 10 kill Ave spaccato tutti quelli che abbiamo trovato Arriva lui fresco fresco E ci ammazza Va bene ragazzi Quindi se il video vi è piaciuto Obbligatoriamente A parte il finale Direi che sono arrivato secondo Ci sta comunque Vabbè Accontentiamoci Un bel mi piace Commentone Se vi è piaciuto Scrivo Madonna Non si può muovere così Con 50 di vita è rimasto Se vi è piaciuto il video Consigliatemi anche qualcos'altro Che vorreste vedere su Fortnite Perché ve li porto Gameplay ignoranti Bellissimi come questi Per cui fatemi sapere Iscrivetevi al canale Per non perdere ovviamente I prossimi video Soprattutto quando scioprò tutto il pass Per cui vi aspetto Fatemi sapere Vi ricordo di seguirmi su Instagram Ragazzi Che trovate qui in descrizione Vi basta cercare Chiocciola Real Anthony Così vi posso salutare In tutti i prossimi video Per cui Ricordatevi E venite a seguirmi Direi che per questo video è tutto Abbastanza incazzato Fatemi sapere se vi è piaciuta la partita Gua mai gozzo E ci vediamo al prossimo video Ciao